Con Elio Zaccuri vincitore allora della 45esima polisportiva Panza Memorial ovviamente di scala di questa gara di nuoto Elio come è andata? Un commento a caldo sulla gara? È andata molto bene, diciamo che è stato un po' difficile prima di entrare nella Baia perché ero un po' agitato però vabbè alla fine è stato divertente, è andata abbastanza bene Di dove sei innanzitutto? Milano Come mai sei qui a Ischia? Immagino in vacanza se era la prima volta oppure se ci sei stato altre volte qui? No, no, qua vengo da quando sono piccolo dato che ho parenti Questa gara invece è la prima volta oppure ti è ricimentato in altre occasioni? No, questa manifestazione qui è la prima che faccio, ho partecipato l'anno scorso a due eventi a Casamicciola e a Forio mi hanno accennato di questa gara qui e allora ho voluto partecipare Senti, invece due parole sul percorso che avete fatto perché siete partiti da Sant'Angelo, siete arrivati qui ovviamente eri impegnato a nuotare e andare il più forte possibile però ovviamente è uno scenario molto molto bello, ovviamente meglio di una piscina Sì, sì, è un bello scenario diciamo che la mattina sarebbe stato più l'ideale perché sarebbe stato più piatto il mare però alla fine è stata una bella gara, è stato un bel percorso non è neanche tanto difficile seguire le indicazioni comunque c'erano le barche che ti guidavano quindi è andata abbastanza bene Senti, fai nuoto, raccontaci un po' di te Sì, sì, faccio nuoto agonistico da quando ero piccolo da quando avevo sette anni iniziato ora continuo a farlo e partecipo ai regionali gli italiani li ho sfiorati di poco quest'anno no, diciamo la mia passione mi piace proprio come sport grazie a tutti